Un'estate al mare, film semplice e lineare nella sua osservazione della realtà passata e presente di Torvajanica. Lungo il filo conduttore del giovane che al lavoro nel bar paterno preferisce l'avventura di ripristinare uno stabilimento balneare, seguita dal primo manifestarsi dell'idea all'apertura estiva, con una sottostoria di cui è protagonista il figlio di Tognazzi che vuole riorganizzare il torneo di tennis organizzato in passato dal padre e chiamato lo scolapasta d'argento, rievocato con immagini di repertorio pertinente e circostanziato. È una ricostruzione di una stagione del passato che riguarda il cinema del passato dove Tognazzi aveva fondato questo villaggio e raccoglieva alcune delle celebrità cinematografiche dell'epoca e che oggi è diventata una delle zone più disastrate del litorale laziale. In questo film si vedono le attività di due protagonisti contemporanei, un giovane imprenditore e un gioielliere che continua la sua attività, che ha scelto comunque di continuare a vivere sul litorale ed era quello che offriva l'insalatiera d'oro alla fine dei tornei di tennis che organizzava Tognazzi. Quindi in questa contrapposizione tra un glorioso passato cinematografico è un tentativo quasi disperato di riportare questo luogo ai fasti di un tempo. C'è comunque una grande volontà di non abbandonare al suo destino un posto legato a ricordi, all'infanzia, un po' possiamo dire come non abbandonare il nostro paese in un momento di grandi emergenze. In un'estate al mare c'è il glorioso passato e l'incerto presente della spiaggia di Torvajanica, località turistica vicino a Roma. I due momenti di questa cittadina sono raccontati attraverso le testimonianze di un anziano signore, appunto testimone dei fasti passati e di un giovane che cerca di trovare il suo lavoro per il futuro. Un'estate al mare racconta in maniera divertente e anche emozionante la tentativa di un ragazzo di crearsi il suo futuro, anche allontanandosi dai desideri del padre e di far tornare Torvajanica ai suoi antichi splendori. Mi è piaciuto, l'ho trovato carino e divertente, mi piace il protagonista e mi piace anche il finale. Un'estate al mare è un film basato sul ricordo di qualcosa che non c'è più attraverso due personaggi con un atteggiamento diverso dei due personaggi, uno che cerca di ricostruire un qualche cosa per andare avanti e uno che invece più o meno subisce la realtà cercando di convivere con l'essa come può. È un film che racconta un pezzo dalle porte di Roma poco indagato dal cinema con degli elementi interessanti dal punto di vista della ricostruzione di sensazioni e di emozioni che si vivono vivendo a Torvajanica. È un film assolutamente tradizionale che non osa da nessuna parte dal punto di vista dello stile e quindi ha una regia assolutamente di servizio.